Dalla prima lettera di San Giovanni a Corso Figlioli di voi, questo pensato che abbiamo conosciuto la vita è che noi denunciamo, Dio è il Dio, e il Dio è il Dio, e il Dio è il Dio, e il Dio è il Dio. Se diciamo che essere con il mondo è il mondo di Dio, e camminiamo in un'esperienza, siamo puntati, e non arriviamo tanto alla volontà, ma se camminiamo nella luce, come lei che riprende la luce, siamo in un uomo di tutti i cognati, e il Santo di Gesù, il Figlio Suo, ci può indicare dalla volontà. Se diciamo che essere senza puntata, incarnavamo noi stessi, e la verità non è il mondo. Se cominciamo a significare, è che il Dio è il Gesù, cammino per cadastro, e il Padre, e il Dio è il Dio, e il Dio è il Dio. Se diciamo che non è il Dio, facciamo il Dio un Dio, e la sua parola non è il mondo. Figlioli di voi, bisogno non si possa mettere un Dio, ma si fa ancora per il Dio, che invece non aveva, a verità non si possa mettere invece il Dio, ma non sonokeiti di venire un solo che generano, e non ha lanciato molte uomini, il nostro corso gratuito www.mesmerism.info il nostro corso gratuito www.mesmerism.info